Vai! Vai! Prendi la carta quella che vuoi, guardala bene, mettila dove vuoi tu nel mazzo, poi una volta che l'hai vista non voglio vederla. Mescola tu, tu stesso. Sei d'accordo Francesco che io non posso sapere mai soltamente il cartonese? Ma io pensavo di essere alto nella vita. Si è buono, non ho capito niente della vita. Ok, adesso stai mescolando le carte, controllo sono tutte le carte, magari che puoi pensare che sia o no. Non è possibile, io ci sono mazzi regolari alla mia regolazione. Credimi, credimi, credimi. Con i bambini piccoli. Va bene. Allora sei d'accordo che la tua carta sarà dentro da qualche parte, non mi dire dove, anche Cecilia la vedrà che ci sarà da qualche parte, giusto? Beh, lì sarà la carta per caso di Cecilia. E se non sei, troppo, giusto? Ho visto un po' di qualcosa che non posso fare nessun monitarista. Tieni mazzo così. Ti dirò una cortesia, dammi un numero piccolo. Come vedete? Se la quinta carta è la sua carta, è un miracolo. Tu stesso, gira. Ok. Interessante! Non è che fisioterapia che fai palestra a Fiumio. Interessa! È tutto il numero che volevi tu, cara, solo nella tua mente, giusto? Sei d'accordo in questo? Ma stai attento, riprendiamo l'ultimo effetto. Guarda, che segno senso di Attale? Pesce, pesce, pesce. Febbraio? Marzo. Marzo. Marzo, 21 febbraio. Allora guarda, prendi la carta che vuoi tu. Quella che vuoi tu. Guardala bene e falla aprire anche lì. Grande Francesco. La vedano tutti. La carta. Ok, fatto. Ok, grazie. Bravissima. Metti la carta dove vuoi tu. Ce l'accordo Francesco? Sì. Bravissimo. Francesco ormai ha ruolato a mescolare. Guarda anche lei, guarda anche lei. Mescola le carte. Te la ricordi la carta, vero? Sì. Io non me la ricordo più. Va bene. Non me l'hai vista solo tu che messa. Non me la ricordo più. Ok. Ascoltami benissimo. Vai. C'è una sintonia con questa carta? C'è una sintonia? Te la ricordi molto. Te la ricordi a me. C'è una sintonia? Eh, devo dire sì. Un numero, un numero similare. C'è un come uno specchio. Ah, ok. Sì o no? È un passo meno. È un passo meno. È un passo meno. Potrebbe essere... Potrebbe essere che la tua carta sia un 3 proprio? Puoi dirlo, puoi dirlo. No. Non era un 3. Sto facendo finta di aver sbagliato. No. Ma che carta è? È il burvetto. La dico? Sì. Due di picche. Due di picche che hai visto nel mazzo? Caci! Sei sicuro che non è? No, no. Aspetta, nella tasca. C'è una tasca qua. Nella tasca sta? Che sono finta, non può. Andiamo a fare una foto. Non vuole farlo uscire. Però aspetta, aspetta. C'è una macchina bellissima. Guarda, quattro di fiori, ok? Anni sessanta. Tieni così la carta. Così è bella. Il furgoncino con le due moto, con le wii sopra. Meno con loro, facciamo la foto. È interessante, è interessante. Io ringrazio di fare. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Certo, quando vuoi. Non vedo l'ora, giuro. No, se vuoi ti insegno su Facebook. Stefano Novi, su Facebook.